Allora, riprendiamo la nostra lezione continuando a parlare di giardino foresta con le strutture spontanee che lo compongono e dove si deve sempre tenere in considerazione l'habitat e le fasce climatiche. Sono partito un po' da lontano facendo vedere un po' quelle che sono le fasce climatiche del mondo le fasce climatiche principali, polari nord e sud, una torrida più o meno al centro, una temperata boreale, una temperata australe Andiamo ancora più avanti. Gli elementi del clima da non trascurare erano quelli che già conosciamo dalle scuole sole, temperatura, precipitazione, acqua, umidità e quant'altro. Le zone climatiche d'Italia, principalmente questa è una cartina molto sommaria, dà un'idea di quella che è la catena alpina in blu Poi tutta la fascia appenninica e la pianura padana in verde e le zone costiere è una cartina che dà delle indicazioni di primo approccio per capire un po' l'Italia come è distribuita nella penisola ma non ha delle fasce trasversali come ci si aspetterebbe andando da sud verso nord o viceversa ma addirittura ha delle fasce verticali. Questo perché? Perché al centro ci sono le montagne, l'appennino appunto che con l'altitudine riprende e riporta in sé il clima che si trova più a nord perché il clima cambia andando da sud verso nord oppure dal livello del mare verso la montagna diventa nel senso che cambia diventando per esempio più fresco Altre cartine un po' più dettagliate per vedere più da vicino le varie fasce climatiche questa volta cominciano ad aumentare i colori perché se si va nel dettaglio si vede che da vicino ci sono delle aree climatiche locali diverse l'una dall'altra addirittura le due coste tirrenica e adriatica sono di colorazione diverse eppure stanno alla stessa altezza ci passa lo stesso parallelo però hanno colorazioni diverse perché il Mediterraneo che influenza il mar Tirreno da sinistra quindi il versante sardo, calabro e siciliano ha temperature molto diverse rispetto al mare adriatico dalla parte opposta che è un mare chiuso e dove subito dopo il mare adriatico ci sono delle montagne anche alte con clima continentale mi riferisco alle montagne della ex Jugoslavia quando invece da questa parte c'è tutto mare aperto, mar Mediterraneo che porta calore e quindi perturbazioni che siano spesso caldo più che piovose dall'Africa ecco perché quelle colorazioni sempre andando più nel dettaglio vediamo ancora l'aumento di colori da colori più freddi a quelli più caldi una cartina del genere l'avevamo vista anche ieri spero non sia di noia per chi l'ha già osservata ma possa essere utile per chi è appena arrivato quelle isole in blu sono le parti più fredde delle Alpi perché ci sono le montagne più alte poi ci sono quelle macchie in blu che si estendono lungo l'Appennino e sono le vette più alte dove si creano dei microclimi appenninici l'Appennino settentrionale, i monti del Gran Sasso, i monti della Maiella la Sila e poi una piccolissima isola che è l'Etna l'Etna anche se è un vulcano attivo è comunque una montagna di 3000 metri e a quella latitudine così in basso comunque ha lo stesso clima di tutte le altre montagne che si trovano più a nord la montagna così come è lo stesso modo le fasce climatiche costiere questa volta le fasce climatiche hanno lo stesso colore o colori molto simili e per quanto riguarda la Puglia c'è una sola colorazione in questa cartina tranne il Gargano che arriva a 1000 metri e a tutta altra fascia climatica andando ancora più avanti nel dettaglio abbiamo ripreso quelle di ieri si vedevano queste isole che qualcuno mi chiedeva ma se io mi trovo qui o mi trovo là allora cominciamo da questa cartina mappa delle temperature medio-massime temperature di colore chiaro significa più basse temperature di colore scuro significa clima più caldo notate subito quest'isola calda in provincia di Foggia a sud-est di Foggia l'isola fredda del Gargano che sale con tutte le variazioni di colori come così cominciava a salire nell'Appennino Daunio verso la Campania poi queste strane isole qua nel Salento la zona più calda del Salento addirittura non è l'estremità di Santa Maria di Leuca ma è quella parte intorno a Lecce ma nemmeno insomma sopra tra Santa Maria di Leuca e Otranto sì è molto più caldo che di non cioè questa zona centrale scusatemi è molto più calda che non questa zona marginale quindi il calore non è distribuito in modo equo e non ci sono rilievi che ne ostacolano la diffusione la Puglia sappiamo bene non ha grosse montagne che fermano le correnti fredde o calde che siano piuttosto queste isole di calore o queste isole di temperatura più fresca sono dovute a correnti e perturbazioni atmosferiche che passano di là in modo diciamo naturale sono delle correnti marine che affluiscono questa zona un po' più fresca qui dentro è favorita non solo dall'Appennino Lucano da una parte dell'Appennino Lucano che si trova qua in basso ma anche dal fatto che le correnti salendo dallo ionico si disperdono non arrivano, non portano tanto calore perché lì c'è l'altopiano delle murge e quindi è una superficie un po' più in alto e un po' coperta con vegetazione di tipo diversa queste isole, queste cartine ci fanno domandare perché da me cresce una pianta e poco più avanti non cresce a volte questi confini sono netti, sono veramente netti come lo spazio di pochi metri pochi metri sembra strano ma lo si può osservare nelle realtà dove per esempio gli agrumi non crescono normalmente, non ci sono piantagioni ma non so se vi è capitato vedere che nei centri abitati gli agrumi ci sono, fioriscono e fruttificano nelle campagne limitrofe vengono distrutti dal gelo da me succede questo in Basilicata a 400 metri sul livello del mare perché questo? Perché il paese, l'abitato, il centro abitato umano produce calore d'inverno e quindi gli agrumi tra le case vengono protetti un grado in più per l'albero può significare la vita o la morte anche mezzo grado in più perché se l'agrume gela a zero gradi quando gela l'acqua la temperatura di 0,5, mezzo grado in più significa l'acqua non gela quindi la pianta non muore mezzo grado, mezzo grado noi non lo percepiamo nemmeno di temperatura ma la pianta lo percepisce come e fa una grande differenza così come fa la differenza tra la vita e la morte e la sopravvivenza o meno di questa pianta allo stesso modo ne influenza la produttività, la crescita e quant'altro allora dicevo una regione che apparentemente è alla stessa fascia climatica costiera, calda e quant'altro in realtà con le temperature il tutto cambia le fasce altimetriche sono molto diverse dalle temperature medio massime e adesso tra un po' vedremo la piovosità mi pare eccola qua la mappa delle isoiete isoiete sono le curve di uguale piovosità a seconda delle zone anche qua vediamo il gargano più piovoso la punta del gargano più piovosa perché sta più in alto c'è maggiore vegetazione intercetta le perturbazioni e quindi maggiore piovosità e abbiamo la foresta Umbria poi la piovosità si sposta qui dove è facile pensare si va verso l'appennino e lì aumenta ma è strana questa piovosità in più all'estremità del Salento e quest'isola qua in mezzo dove c'è quest'isola qua in mezzo più o meno corrisponde la cartina non è proprio precisa precisa ma più o meno corrisponde alla zona di intorno Martina Franca dove ci sono i boschi di Fragno il Fragno si è conservato proprio perché lì c'è adesso si può dire un microclima diverso leggermente più piovoso leggermente più fresco e questa pianta può sopravvivere cosa che non c'è in tutto il resto della Puglia quindi dicevo le zone più calde sono da assumere quelle con i colori più chiari come il Golfo di Taranto e poi da Bari ad andare fino sopra Foggia da notare quella zona caldissima che si infila nella piana di Foggia va fino sopra e addirittura tra Manfredonia e Foggia ci sono due isole con una piovosità ancora più bassa di tutte le altre una piovosità che arriva dalla colorazione dice la colorazione a 500 mm di pioggia all'anno non avevo spiegato prima precedentemente lo possiamo fare adesso perché siamo sempre in tempo una piovosità di 500 mm all'anno significa un clima mediterraneo veramente secco e asciutto perché se la piovosità arriva a meno di 250 mm all'anno è da considerarsi deserto quindi da 500 a 250 siamo molto vicini una piovosità media delle altre zone è intorno ai 600-700 mm ma c'è da considerare anche un altro parametro se questa piovosità fosse ben distribuita durante tutto l'anno sarebbe tutt'altra storia che non averla concentrata in due o tre mesi quindi la piovosità va vista come quantità di pioggia nel tempo Berlino si trova molto a nord dell'Europa ha una piovosità inferiore a Francavilla il mio paese che è una piovosità media di 750 mm all'anno beh dal mio paese d'estate è tutto secco come qui a Berlino è tutto verde me lo sono chiesto perché ci sono state e ho subito dovuto riflettere ma perché tutto questo? da me sono argillosi i suoli la umidità la trattengono se non vengono scombinati a Berlino è sabbioso come la sabbia del mare perché tutta quell'aria era stata spinta sotto il mare dal peso dei ghiacciai è stata ricoperta di sabbia e il suolo è completamente sabbioso ma è tutto verde non secca mai l'erba perché? perché la piovosità di 500 mm di Berlino sono distribuiti durante tutto l'anno d'inverno c'è la neve si sta sotto la neve c'è frescura in quantità anzi là c'è anche molto freddo ed estate piove spesso questo capita in molti paesi del nord Europa piovosità non eccessiva ma ben distribuita invece una piovosità eccessiva caso estremo può essere quella dei famosi temporali alluvioni che avvengono nel sud Italia il terreno non ha neanche il tempo di assorbire il tutto viene portato via e si hanno altri mesi dell'anno completamente asciutti influenza molto la vegetazione ce ne accorgiamo guardando intorno quando troviamo delle piante piuttosto che altre la macchia mediterranea se è più alta o più bassa fa una grossa differenza al di là poi del quantitativo di suolo che è rimasto nel terreno andiamo avanti ancora scusate da questo lato ok fasce vegetazionali in base all'altitudine anche in questo caso ripercorriamo quello che dicevo prima a proposito della latitudine cioè se si va dal sud verso nord si ripercorre quello che sta sulla ipotetica cima di una montagna mi rendo conto che questa cartezza non c'è la Puglia perché la Puglia ha un'altezza media inferiore a 500 metri quindi si trova nella fascia che va dall'ulivo in giù a parte l'isola del Gargano e quelle colline dell'Appennino Dauno la stessa cartina ancora un po' più dettagliata riguarda un po' tutta l'Italia questa cartina e anche molte zone d'Europa pianura e collina si incontrano il Leccio la Sughera e il Rovere però già il Rovere lo troviamo più a nord nelle pianure del nord e non quelle del sud dal sud c'è la Roverella più in alto si sviluppa il Castagno già siamo intorno ai 500 metri poi trovi il Castagno sostituito dal Faggio dove finisce poi il Faggio cominciano a inserirsi gli abeti e poi si arriva fino in cima con i prati vi ricordate Heidi quando pascolava nei famosi prati montani beh quella è una bella favola perché una bella storia perché quei prati esistono esistevano ed esistono perché a quell'altezza non crescono gli alberi ma solo piante erbacee e il freddo il fattore limitante gli alberi non gli permette di crescere perché fa troppo freddo le piante erbacee sfuggono al freddo sotto forma di seme o di radice allo stesso modo come qua sfuggono al caldo e quindi riescono a rigenerarsi poi ogni primavera e ci sono questi prati è interessante un'altra piccola parentesi notare che questi prati alpini nei prossimi anni diventeranno boschi stanno già diventando boschi perché il clima è salito e i prati vengono colonizzati dagli alberi quelli che si trovavano un po' più giù cioè gli abeti i larici e alcuni pini altra notizia interessante che può essere che sia il freddo e sia il caldo eccessivo sono fattori limitanti tendono a far diventare le piante più piccole più basse nane e lo vedremo anche più avanti il castagno qui è indicato come una fascia climatica di per sé ma il castagno è una pianta introdotta siccome è facile da vedere è bello ed è buono da mangiare viene indicato in queste cartine ma in realtà la fascia del castagno è quella di un'altra quercia naturale che esiste tuttora sulla pennina e si chiama cerro la Quercus cerris ok una piccola tabella frutteti possibili da utilizzare in Puglia e un frutteto familiare in quest'area piante di fascia climatica dell'ulivo li conosciamo già sono sempre le stesse piante io mi sono mantenuto sulle stesse piante per facilitare la cosa oltre a quelle che possiamo introdurre vedremo dopo ma ho dato il numero di varietà se si ha un giardino considero per esempio una superficie di mezzo ettaro o anche meno fino ad arrivare ad un ettaro che è più che sufficiente ci si possono mettere un tot numero di varietà quante? pero cinque o anche più di cinque tre meli almeno tre albicocchi cinque ciliegi un numero di mandorlo di cinque varietà perché sono più che sufficienti due peschi di varietà diverse una che matura prima e una che matura tardi e almeno minimo quattro susini questi alberi esistono anche in forma nana sia per i posti in nesto e sia di forme già esistente selezionate in natura quindi se abbiamo meno di mezzo ettaro possiamo mettere le stesse piante perché resteranno alte un metro e mezzo ancora altre piante che si usano e sono ben conosciute prugno naturalmente ma il fico il fico non esiste ancora almeno io non l'ho visto in forma nana si può potare si può allevare si può forzare mantenendolo basso ma il fico nano proprio non c'è al contrario del prugno che si può innestare sul prugnolo e rimane sempre nella solita altezza di un metro e cinquanta o due metri innestando basso al terreno il giugiolo è già nano di per sé il gelso esiste nella forma nana oppure pendula quindi ci sono dei gels molto piccolo il noce non esiste nella forma nana anche se lo si innesta ecco questa è una parentesi un po' diversa il noce anche se lo si innesta diventerà sempre un grande albero crescerà un po' di meno di quello selvatico con una cioma più rotonda anziché più slanciata ma comunque è un grande albero per adesso non ce ne sono il nocciolo è già nano di per sé perché è un arbusto così come i cachi che possono essere tenuti bassi è il fico d'India il nocciolo l'avevo detto sì ieri cresce in Puglia nelle zone dove c'è qualche valle come questa valle che si trova tra questa masseria e Castellana si è attraverso una valle non so se avete notato questa piccola valle ha un grado di umidità in più e una profondità del terreno maggiore addirittura questa mattina dicevo ho visto delle piante di bambù che stanno benissimo e il bambù è una pianta molto esigente infatti di umidità cresce in foreste piovose mi dicevano ci sono anche dei bambù di varietà più resistenti al caldo ma non esistono bambù di macchia mediterranea di zone proprio calde 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 mi pare non ce ne siano è comunque una pianta di zone che un po' di frescura la vuole e se la procura da solo crescendo a mucchio crescendo a ciuffi a cespugli molto forti quindi se abbiamo un muretto a secco per esempio che delimita il nostro terreno e il nostro terreno si trova nella parte rivolta a nord del muretto andrà bene mettere il nocciolo se il nostro terreno si trova nella parte a sud dietro lo stesso muretto andrà bene metterci il fico d'india e abbiamo spostato il territorio soltanto di un metro e mezzo quanto è largo il muretto ci siamo spostati di un metro e mezzo ma abbiamo due zone completamente diverse agrumi ho messo tra parentesi acqua e il numero di varietà è variabile in base alle esigenze perché bisogna fare i conti con l'irrigazione e nelle zone più fresche meno acqua ma su una murgia su un suolo affioreante cresce degli agrumi è un'impresa un po' più ardua però è possibile ed è una pianta da considerare eccolo qua il nostro famoso noce comune Jugland's Regia è un albero grande si può innestare ne abbiamo parlato abbondantemente questa mattina e se ne possono ottenere anche individui con frutti molto grossi esiste una varietà che si chiama noce cocco non noce di cocco noce cocco perché ogni frutto è grosso tre volte un noce normale ed è ottimo è buonissimo da mangiare ma anche in quel caso ci sono molte varietà ci sono varietà che hanno solo il guscio grosso e il gheriglio piccolo e ci sono altre invece che hanno anche il gheriglio grosso e quindi ogni noce di quello vale per tre però poi bisogna fare i conti con gli insetti con il vento e con quant'altro perché i frutti grossi poi sono sempre indici di altre problematiche questo invece che sembra una novità chiamato noce pecan in realtà assomiglia al noce per il gheriglio che sta all'interno e anche per il sapore anche se è più buono tra virgolette più dolce più aromatico ma non è una pianta della famiglia del Yuglans ma è un altro genere si chiama Caria Caria illinoensis perché viene dall'Illinois degli Stati Uniti zona abbastanza fresca assumibile più o meno a quello che potrebbe essere la pianura padana beh guardate un po' ce ne sono delle piantagioni intensive in Puglia come hanno fatto hanno prodotto dei pecan resistenti al caldo che hanno bisogno di meno quantitativo d'acqua li hanno innestati su pecan selvatico e quindi l'hanno ridotto di taglia e ne hanno fatto degli alberelli che sono un po' più grandi dei nostri agrumi ma più piccoli dei noci selvatici e dei noci pecan e si coltivano in Puglia e hanno un ottimo sapore se si trova una pianta innestata di queste e si può piantare se si ritrova una pianta e si può piantare in un substrato un po' più profondo ne vale la pena coltivarlo perché a parte fare il livello più alto del nostro famoso giardino foresta è anche ottimo come alimentare quello nella foto è un essere umano l'albero non innestato avevo tralasciato un piccolissimo particolare l'albero non innestato anche in Puglia in condizioni favorevoli diventa da 20 a 40 metri è un ottimo legname tale quale è il legname del noce comune quindi valore anche del legname quando sarà e diventa grande diventa enorme poi negli Stati Uniti hanno sempre alberi più grandi di tutti non si sa perché scherzi a parte ho scoperto che gli alberi sono più alti perché l'impatto dell'uomo è cominciato più tardi qui vi ricordate quando ho detto che le foreste di Lecce erano state tagliate già dai romani 2000 anni fa lì hanno cominciato a tagliare solo 400 anni fa 400-500 anni fa in alcuni punti negli Stati Uniti hanno cominciato a tagliare 100 anni fa e gli alberi erano stati tranquilli il suolo era stato tranquillo lì sì davvero che il suolo era stato in armonia col cielo con la terra e col creato perché le popolazioni del luogo non avevano avuto un impatto così devastante come in Europa non c'erano le civiltà diciamo noi negli Stati Uniti però intanto c'erano degli ottimi ecosistemi con degli alberi alti 90 metri qua invece gli alberi più alti in Europa oggi arrivano stento a 30 metri ce n'è qualcuno di 40 ma non vanno oltre negli Stati Uniti invece forse partono da 40 a 70 poi lì sono le sequoie e con quelle hanno toccato il massimo hanno toccato il cielo sì 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 addirittura sì c'è un film sulla loro salvaguardia perché erano arrivate a tagliare pure quelle e le più alte le hanno tagliate però ci accontentiamo di quelle un po' più piccole che comunque sono 110 metri il pegan è veloce se ha condizioni di frescura quindi una di queste valli una zona non esposta sulle murge non sull'alto piano con la roccia fiorante può crescere anche intorno ai 60 centimetri all'anno cioè dall'altezza del tavolo a qua questi sono 60 centimetri che tanto con poca acqua pochissima acqua significa aiutarlo ogni tanto sporadicamente in un seccio d'acqua dimmi sì di questo se ne parla tanto ed è vero ma io invece vi invito ad osservare qualche cosa che va contro questa tendenza perché nella piana campana mi riferisco a tutta la zona tra Nocera Inferiore Angri Pagani dove c'è Nola il Cis di Nola quella zona lì tra il Vesuvio e l'Appennino ci sono coltivazioni intensive di noccioli sofframiste sparpagliate con i noci tutti intorno quindi noce nel piano superiore della vegetazione e noccioli sotto e vanno bene certamente il nocciolo è una pianta di bosco si adatta ecco perché tollera ma se sotto il noce andiamo a mettere in agrume saranno cavoli il pecan tende a fare più o meno la stessa situazione e anche perché è una dimensione maggiore specialmente se non è innestato allora la pianta innestata comincia a fruttificare dopo 4 anni è una piantina sul mercato mi pare che costa intorno ai 12-15 euro un astone innestato che vada in fruttificazione dopo 4 anni con tutte le condizioni normali condizioni normali intendo minimo di amore di attenzione un po' d'acqua e un po' di cure senza spingere senza forzare con nient'altro altro arbusto che può essere considerato a chi piace da recuperare per marmellate e altre forme è l'uva spina l'uva spina è un grosso ribes il ribes è una pianta più di montagna l'uva spina riesce ad arrivare anche più in basso nella zona dove cresce il fragno di Martina Franca quella zona un po' più fresca un po' più piovosa questa pianta andrebbe bene e forse anche un po' più giù diciamo non in riva al mare ma già dove siamo noi qui che siamo un po' più lontani dal mare dovrebbe andare bene magari negli angolini sotto i muretti un po' più all'ombra come la storia del nocciolo l'uva spina eccolo qua il pepe rosa ornamentale alimentare come spezia aromatico per le foglie per i frutti e benvenga quant'altro se ne può usare ottima pianta che si è contenta anche questa di poco ma da considerare le dimensioni a proposito di qualcuna sì un amico mi chiedeva prima le dimensioni bisogna considerare le dimensioni da adulto allora se non ci sono tabelle non ci sono indicazioni cerchiamo di vedere trovando sulla pianta qual è la dimensione da adulto e poi facciamo un ragionamento quant'è la chioma dicevo a proposito del pino domestica stamattina la chioma qua mi ingombra dal tronco almeno 8 metri o 10 metri quindi 8-10 metri se li pappa tutto quest'albero se ci sono scusate 8-10 metri di ingombro significa che le radici in quegli spazi pure saranno ben agguerrite è un sempre verde quindi andare a mettere qualcosa qua sotto diventa un po' più complicato però si possono mettere dei fiori degli arbusti delle piante ornamentali che amano l'ombra per esempio un caso estremo anche se difficile da coltivare le felci se abbiamo una situazione un po' più fresca estetico armonico ok ah ci sono anche delle felci medicinali però come? anche quello si se ne può utilizzare e poi qua sotto vediamo in primo piano ci sono delle piante quest'albero si fa un'ombra totale eccetera quello che vuoi però in primo piano qua davanti ci sono delle piante di yucca quindi c'è un lato dell'albero che comunque viene passato viene attraversato dal sole e se vicino non ci sono altri grandi alberi il sole arriva fino sotto il tronco guardate il tronco è illuminato quindi parte della giornata è da considerarsi a mezz'ombra qualche arbusto qualche piantina qualche cespuglio ci si può invilare e lì ci hanno messo la yucca e la yucca è una pianta da deserto da pieno sole e sembra che se la cava bene pure se l'albero del peperoso è lo skinus molle si chiama e viene dal Perù la zona calda del Perù sembra che abbia coperto tutto ma invece ha permesso qualche cosa andiamo avanti altre? sì dimmi l'erica erica arborea è una pianta che può crescere qui all'ombra? all'ombra stenta ah credevo fosse da ombra almeno mezz'ombra almeno mezz'ombra ne avrebbe bisogno perché l'erica arborea è una pianta pioniera dei prati aperti dei boschi e dei prati aperti quindi va a colonizzare un po' quello che va allora l'erica cresce allo strato di solito di norma all'altezza dove crescono i cerri quindi intorno ai 600 700 metri sull'appennino più in basso tra le roverelle cresce la ginestra dove c'è sole quindi la ginestra prepara il terreno alla roverella l'erica arborea lo prepara al cerro antiche varietà di melo di pero queste sono le antiche varietà di cui tanto vi parlavo in alto a sinistra si vedono delle pere di piccole dimensioni e il sapore non è trascurabile perché queste pere rimangono di colore bianco sono belle il mercato le ha scartate perché a volte sono troppo morbide troppo tenere quindi raccogliendole portandole in un cassetto con un minimo di sobalzo già rischiavano di ammaccarsi però dico se si trasporta l'uva che è così delicata si poteva trasportare anche questo hanno preferito fare prima più veloce correre subito con quelle più dure che non si ammaccano lì c'è una piccola esposizione delle tante varietà di mele che esistono in Italia e poi ho tirato fuori questa foto della limoncella la limoncella esiste limoncella bianca e limoncella gialla questa è la gialla questa mela se la immaginate grossa e rotonda ne ottenete una golden è un'antenata della golden allora non si può pretendere di coltivare la golden da noi anche da me che se la mangiano tutti gli insetti possibili e immaginabili è un po' più acidula della golden è concentrata sia come forma sia come sapore però è una mela che essendo di piccole dimensioni buccia un po' più spessa non attaccata agli insetti si conserva si conserva come la golden fino a febbraio-marzo in condizioni fresche sì ti do un attimo il microfono allora chiedevo se ci sono dei sistemi per conservare la frutta per molto tempo come sappiamo le mele almeno l'industria le riesce a conservare un anno io non pretendo di fare altrettanto però però ti posso dire che ci sono dei sistemi artigianali e io questi li ho sperimentati ho un minimo di esperienza e quindi posso darti delle indicazioni allora per quanto riguarda le mele hanno bisogno di un ambiente fresco ma anche un po' umido non secco se le portiamo nella nostra solita cantina che di solito è fresca ma è asciutta e le mele raggrinziscono appassiscono allora io ho fatto questo sistema dopo qualche anno di prova sempre risolte osservazioni e riflessioni ho fatto delle gabbie riciclando quelle strutture quelle gabbie che usano di legno quelle gabbie di legno che usano per trasportare i pezzi di ricambio delle auto sono delle gabbie di due metri per un metro per un metro quindi sono due metri di lunghezza per un metro d'altezza per un metro di larghezza ho messo una rete tutto intorno una rete a maglie sottile per difendere queste mele dai topi e le ho poggiate a terra con uno strato di paglia sotto l'ombra di qualche pino ecco perché rientrano pure i pini all'aperto e poi sopra ci ho messo un telo di plastica solo sopra quando piove cosa succede l'acqua battende scende dall'albero si frantuma viene nebulizzata dai rami dell'albero quindi non mi arriva a terra a velocità pazzesca si frantuma tra i rami e arriva sotto forma di goccioline che cadono piano piano non devono bagnare le mele ma le devono mantenere umide tutto intorno perché tutto intorno la rete è aperta quindi l'umidità che circola a livello del suolo con quella che cade se ne cade se ne cade troppa ho chiuso una parete con un telo di plastica e ho lasciato aperto altre due e vado poi a regolare a vedere il tasso di umidità così ad occhio vedendo se le mele marciscono c'è troppa umidità se raggrinziscono sono troppe asciutte e ogni volta si alza un lembo ma è facilissimo una gabbia di questa l'ha aperto all'ombra in un giardino uno strato di paglia bello spesso di 20-30 centimetri paglia naturale e le mele messe sopra un solo strato sono riuscito a conservarle con questo sistema dalla raccolta di ottobre fino a marzo aprile poi da aprile no non sono raggrinzite anzi ho avuto un problema quando ha fatto troppo caldo hanno continuato la maturazione e sono smaturate alcune varietà tendono a continuare la maturazione quindi smaturano diventano farinose non sono più croccanti questo è l'inconveniente perché ha fatto caldo perché durante l'inverno si sa ogni tanto deve fare un po' di caldo poi a fine marzo le ho messe in frigorifero e sono arrivato fino a giugno in frigorifero con queste vecchie varietà tipo le limoncelle e tipo queste qua che le chiamiamo mele d'olio d'olio perché avevano delle macchie dentro come se fossero macchiate d'olio olio in dialetto olio e se ne sono niente altro che delle concentrazioni zuccherine quindi sono dei frutti anche molto dolci molto belli molto croccanti e sono arrivato fino a giugno in frigorifero a fine giugno hanno cominciato a maturare le varietà precoci l'ho scoperto per caso da 4-5 anni a questa parte mi sono ritrovato ad avere le mele tutto l'anno che poi non avevo cosa farne le avevo regalate tutta la basilicata e alla fine mi sono trovato a fare i succhi di frutta a giugno con le mele che avevo raccolto ad ottobre e a luglio ho cominciato un'altra volta a fare i succhi di frutta con quelli che maturavano a luglio e questa è la bellezza dell'orto che quando poi inneschi il meccanismo escono dei frutti da tutte le parti e non ho trattato non ho messo niente ho aiutato l'albero con le prime mele che venivano attaccate dalle larve le ho raccolte e le ho date agli animali da mangiare quindi avevano aspettato che cadevano a terra già quando sono bacate sono bucate le puoi raccogliere e dare agli animali così l'albero lo liberi lo alleggerisci e i frutti migliori restano più grossi e crescono poi sperando che arriva il freddo si blocca il ciclo degli insetti che vanno a deporre le uova e ne ottieni una buona porzione facendo in questo modo ho ottenuto una quantità che va intorno al 30% di mele perfette come quelle che vendono e 70% tutto con qualche difetto di qua di là quindi sono numeri assurdi se si vuole andare a vendere antiche varietà di mele antiche varietà di prugno questa qui a destra è una varietà simile alla cardinal che ha un sapore squisito e di colorazione più rossastra rispetto a quella a sinistra e ha un sapore buonissimo però è un po' più delicata perché viene attaccata a volte dalle muffe sono solo alcune indicazioni sono frutti che hanno dimensioni modeste sono belli grossi ma non sono neanche piccolissimi quindi in ambienti caldi come la Puglia si possono allevare facilmente nei nostri giardini un'altra antica varietà è la mirabelle non so se qualcuno si è imbattuto in questa pianta ho scoperto che sono ottime sento dire io ho scoperto che ce ne sono diverse varietà di mirabelle ce ne sono alcune grosse quasi come una pesca fino ad arrivare ad alcune piccole come una ciliegia io ho quelle di dimensione intermedia come quelle là cioè dimensione intermedia significa questo e poi fino a quelle come una ciliegia piccolissime sono tutte buone e si conservano sulla pianta almeno quelle di dimensione intermedia circa un mese in un mese questi frutti continuano a maturare piano piano un poco alla volta cadono quelle caratteristiche che dicevamo stamattina a proposito della conservabilità del frutto sull'albero e la maturazione scalare è una cosa berrande per l'industria l'industria vorrebbe tutti che maturano subito li raccolgono una sola volta e poi vanno tutti in banca a prendere i soldi invece nell'orto e nel giardino no noi abbiamo bisogno di nutrirci tutti i giorni e se la frutta è disponibile sull'albero è molto meglio che conservarla in frigorifero da qualche altra parte quindi lunga conservabilità sull'albero ottime caratteristiche tra l'altro il seme è piccolo e si stacca facilmente dalla polpa piante ortive coltivabili con tecniche di arido cultura questa per me è una piccolissima introduzione che voglio presentarvi perché con Angelo sicuramente vi darà tutti i segreti e tutti i dettagli nello specifico pianta per pianta c'è solo un semplice elenco però non è un elenco banale è un elenco enorme ed è lungo cioè diciamo è abbondante non è trascurabile si arriva pure al pomodoro peperone ma c'è un ma adesso da specificare noi piuttosto adesso con la cultura che abbiamo vogliamo per forza la pizza col pomodoro perché è buona e piace a tutti ma c'è da considerare ma che dicevo il pomodoro patata melenzana e peperone sono piante della stessa famiglia solanacee ma vengono dal centro America vengono da zone tropicali calde e le abbiamo infilate nell'Italia fino sull'Appennino allora non sono le piante che non crescono non siamo noi che sbagliamo qualcosa è la varietà che è venuta da un altro continente da un altro mondo ed è stata infilata qui a forza e abbiamo selezionato le varietà più o meno resistenti al caldo e al freddo all'altezza alla dimensione dei frutti e quant'altro quindi questo perché volevo farvi ragionare prima della scoperta dell'America non ci si nutriva di quei prodotti allora togliamo pomodori peperoni melenzane e patate e lasciamo tutti gli altri cosa mangiavano fino al 1400 fave cicorie e mangiavano grano anche bollito il mais altra piante che pure da escludere e mangiavano il sedano che so la cipolla e le carote e i ceci di queste piante aglio e asparago di queste piante ce n'erano in abbondanza avevano tante varietà e con quelle tante varietà compensavano l'alimentazione di tutto l'anno adesso l'alimentazione è stata arricchita e sono diminuite il numero delle varietà si coltivano meno varietà di più specie va bene benvenga però è da considerare questo motivo perché a volte non bisogna arrabbiarsi e dire ma da me i pomodori non fanno il pomodoro ricordatevi viene dal centro america di una zona calda tropicale e lì cresce spontaneo anche le fragole coltivate sono un ibrido di fragole peruviane di zone calde e vanno bene nei nostri climi caldi con le serre più o meno le fanno fare tutto l'anno però è una pianta che viene da ambienti molto diversi dai nostri ecco perché poi ha bisogno di cure di coccole e ha tante difficoltà invece è molto più semplice coltivare i ceci e le nostre buonissime scarole di tutti i tipi e le cicorie e i piselli perché hanno tra l'altro il ciclo autunnale invernale primaverile e qua il nocciolo di tutta la problematica cioè se noi in ambiente arido andiamo a coltivare le piante che crescono quando l'aridità non c'è assecondiamo quelli che sono i cicli naturali dell'ambiente in cui viviamo poi quelle altre piante se le vogliamo ci vuole un po' di impegno in più un po' di impegno in più non è che e non voglio usare mai la parola impossibile non è mai impossibile ci vuole un po' di impegno in più impegno significa manutenzione cure culturali magari anche acqua se c'è e quant'altro ma la lista è lunga e sarebbe ancora più lunga se ci mettessimo dentro tutte le varietà che esistono di fave di finocchi o di ceci e di quant'altro di rape questo cavolo qui si chiama cavolo romanesco natalino una cosa del genere è una struttura si dice come modelli frattali è molto bello da vedere è una selezione credo moderna però comunque è un cavolo che viene coltivato sempre in quel periodo lì quando il terreno è fresco e non c'è bisogno di innaffiare va aiutato all'inizio perché va piantato a fine estate quando ancora fa caldo e lì c'è bisogno di dargli una mano se lo vogliamo sovranciamente se lo vogliamo avere pronto prima di Natale però insomma ci sono tante varietà tardive precoci medio precoci se andate solo a vedere le rape a volte guardando le buste delle sementi che vengono c'è la rapa sessantina novantina centoventi giorni quarantina marzatica aprilatica ma siamo a mangia rape qua tutto l'anno quante varietà di rape e per fortuna che esistono e sono ancora coltivate perché c'è molta gente che le apprezza e quindi le rape poi sono facili da coltivare in questi ambienti abbiamo una varietà di rape per tutti i gusti esistono anche per le altre piante solo che sono un po' più difficili da reperire ma non impossibile andiamo avanti la generosa all'orto l'avevamo vista e fagiolo e cece altre due leguminose che possono essere coltivate però con ambienti e sistemi diversi le ho messe nella stessa foto perché non bisogna confondere un po' la situazione il cece si semina in autunno e si raccoglie alla fine della primavera pressa poco a seconda delle zone il fagiolo no il fagiolo non cresce durante l'inverno perché anche quel freddo che c'è lo danneggia ma si può far crescere con delle semine anticipate e a proposito di semine anticipate doveva esserci più avanti ci sarà una tabella ve ne spiegherò più dettagli nelle zone più calde piccolo schema cioè nella fascia climatica del carrubo si chiama così quella del carrubo dove crescono gli agrumi perché ormai i carrubi ce ne sono ben poche e ci sono piuttosto gli agrumi si può provare coltivare queste piante l'avocado il mango il dragon fruit la nona la feijoa e il pistacchio il pistacchio è tipico di ambienti mediterranei viene già coltivato sull'Etna con un enorme successo e sta cominciando ad essere introdotto anche in Basilicata so che ci sono delle piandagioni che mi hanno detto vanno bene verso Montalbano Montalbano comune di Montalbano quindi pure nell'interno su delle colline argillose aride asciutte esposte al sole 360 giorni all'anno e con scarsità di irrigazione perché il pistacchio è una pianda di zone pre-desertiche la feijoa viene dal Brasile e ha dei frutti che hanno un gusto interessante è buona a me piace poi un alberello simpatico perché ha la foglia di colore grigiastro come l'ulivo ed è un arbusto poi c'è la nona che ha un frutto ah c'è la foto c'è la foto eccolo qua carrubo prima foto eccolo qua un esemplare da ammirare che devo scoprire dove si trova ma è bellissimo carrubo lo conosciamo i frutti venivano usati come dolcificante il seme siccome aveva una omogeneità di dimensione pressoché costante sapete carato sì esatto nell'arabo veniva chiamato carat da carrubo cioè carrubo è derivato da carat perché i semi li usavano come sistema di scambio delle merci preziose da cui sono derivati i carati per i gioielli pistaccio eccolo qua arbusto suolo roccioso come quello e anche più arido sull'Etna ho visto delle piantagioni di carrubo su della roccia vulcanica nera che sembrava di stare sulla luna tanto che erano aridi e brulle quelle zone lì poi ci sono passati in inverno quindi carrubo il pistaccio non aveva le foglie e veramente sembrava un paesaggio lunare però i pistacchi assaggiati erano di ottima qualità quelli che vendono a bronte sì a nord dell'Etna a bronte ed intorno no l'esposizione era a sud dell'Etna lato sud la fejò è questa qui il dragon fruit è quello di sotto il dragon fruit è un cactus che viene dal centro America e sta cominciando a diffondersi in Italia lo si vede qualche volta nei cesti di frutta tropicale a Natale è come un fico d'India il frutto solo c'è queste squame i semi sono piccolissimi come i semi dei kiwi e la polpa è bianca ma c'è anche a polpa rossa e a polpa gialla le solite nostre tante varietà che esistono solo che questo cactus ha una caratteristica particolare insolita è un cactus rampicante e per farlo crescere o lo si addossa a un buon sostegno come potrebbe essere un ulivo centenario oppure ci vuole un paletto di cemento come in quel caso quella è una pianta giù come? si si auto impollina o meglio ci sono degli insetti che svolgono la funzione mi hanno detto che anche se queste piante non sono nel nostro clima hanno subito trovato degli insetti impollinatori infatti io a Napoli ho coltivato e sto coltivando tuttora una pianta di annona la prossima pianta che fa dei fiori che si aprono la notte allora immaginate Napoli città insetti neanche parlarne sembra fiore poi si apre la notte figuriamoci chi ci va dopo un anno che ha cominciato a produrre fiori ha prodotto i frutti quindi qualche insetto ci è andato anche lì è incredibile ed è anche meraviglioso allora la nona ha un buon sapore ed è diverso dal fico d'India la consistenza è simile ma è consigliabile provarci perché ha bisogno di terreni un po' più freschi non è la stessa fascia climatica del fico d'India clima caldo però terreno un po' più fresco e la feggio stava lì eccola qua un'altra pianta interessante dicevo la nona è quella di sopra ha una polpa bianca molto dolce che sembra una cosa tra mela e banana insomma tutti i gusti sono buoni quelli che vengono e l'albero è un arbusto come gli agrumi un grosso arbusto tre metri quattro massimo e il frutto si mangia poi ci sono quei grossi semi là ma veramente sono sono buone l'altra pianta che conosco già da tanti anni viene coltivata lungo le coste in alcuni punti ma adesso con il clima può entrare un po' più all'interno e quelle zone più calde della Puglia la fascia quella del Carrubo Golfo di Taranto estrema penisola Salentina fino a salire sopra Brindisi questa pianta di mango dovrebbe andare bene dico dovrebbe perché a Napoli cresce vent'anni fa a Napoli non ce la faceva adesso sta crescendo bene l'albero è ancora piccolo non vi posso dire quant'altro però so che a Marina di Camerota Palinuro quindi in Campania nell'estrema parte lì del Cilento ci sono delle piante portate da emigranti che sono stati in Venezuela e sono alberi diventati come i nostri aranci che producono dei frutti buonissimi squisiti e vanno bene li tengono nei giardini davanti casa come gli aranci quindi il mango che è un albero di foreste dell'India se coltivato in piccoli spazi piccole dimensioni può essere un ottimo albero ha un sapore per chi lo ama veramente buono e squisito e ne vale la pena provarci se si ha sempre volontà e gusto di tentare l'altra pianta ricchissima di proteine è questo qua l'avocado che può esistere in una forma allungata oppure rotondeggiante oppure addirittura proprio a forma di sfera il gusto di questa pianta matura non è accettabile da tutti così non è che te lo mangi come una pesca però è buonissima fatta in insalata o in salsa a me piace anche maturo al naturale perché è molto ricco si sente proprio che è una pianta ricca di sostanze sostanze grasse sì e poi cresce con una velocità estrema nella zona del litorale ionico quindi policoro quella zona lì ne ho dato ne ho rifilato qualche pianta a qualcuno e mi hanno detto che è diventato un albero grande come un noce in dieci anni ha una crescita velocissima con un minimo di aiuto d'acqua e i frutti adesso li vendono li portano al mercato generale per tanti che ne hanno perché è molto abbondante nella produzione dimmi forse sì per la diretta dimmi sì avevo sentito dire che non esistono varietà di avocado che riescono a impollinarsi da solo cioè ci vogliono almeno due varietà diverse mi sembra mi sembra strano perché nel giardino sempre di mio suocero famoso che sta a Napoli c'era una pianta sola unica e sconsolata dove intorno c'erano solo palazzine e ne produceva bizzeffe era di quella varietà lunga lì e poi addirittura l'hanno tagliato perché era diventato troppo grande ed era diventato pericoloso perché era piegata sono tutte quelle problematiche non mi hanno dato retta se no sarebbe ancora lì piante di sessi separati io allora sì per uscirne da questo problema io credo una cosa che queste piante erano ottenute da seme e molto probabilmente erano delle varietà un po' più selvatiche allora le varietà moderne hanno questo problema che è lo stesso dei ciliegi dei meli dei peri e delle susine ci vogliono gli impollinatori ma se metti una pianta da seme che diventa più grande non è innestata se la cava da solo perché almeno quello lì funzionava e ne sapevo anche di altri che funzionavano quindi erano quelle là a cui mi riferisco erano piante un po' selvatiche se naturalmente andiamo a comprarla allora sì bisogna fare attenzione a questo problema forse dietro c'è una domanda ah grazie va bene grazie ah sì me la sono dimenticata ce l'avevo in mente la macadamia l'unico albero fruttifero che viene dall'Australia perché in Australia di alberi da frutta non ne hanno potuti portare perché non ne hanno trovati tanti e sta macadamia produce delle noci di queste dimensioni lisce rotonde con un guscio durissimo che ci vuole un martello e anche una mano ferma se no non riesci a spezzarlo ma il frutto è squisito però fruttifica nell'ambiente e nella clima del carrubo infatti anche questa fruttifica all'orto botanico di Napoli o nei giardini di chi si è permesso di coltivarlo ed è un albero neanche questo di tante grosse dimensioni di grandi pretese come un agrume foglia sempre verde molto lunga la foglia sembra quasi come una foglia di castagno verde con un po' di punte tutto intorno e fa questi frutti a grappoli fa dei grossi grappoli lunghi 30 cm con 3-4 noci appese l'uno dopo l'altro e matura anche questa in periodo autunnale intorno a novembre macadamia il nome scientifico è macadamia integrifolia il nome comune è macadamia e se cresce si poi diventa grande specialmente se non è innestato e il vostro è innestato perfetto quindi ecco perché sta diventando bello grande quanto è grande adesso quello di due metri quello di due metri fruttifica ancora no e va in crescita perché io l'ho visti fruttificare a tre metri d'altezza quindi un altro po' di pazienza però cresce cresce va bene piante aromatiche allora le nostre care piante aromatiche qua abbiamo il famoso ginepro rosso che è una pianta di ambienti veramente difficili e impossibili si accontenta di poco oltre che di essere una pianta utilizzata per le bacche con le bacche per tanti motivi può essere una pianta che va messa bene su quelle rocce dove gli ambienti sono veramente estremi come la gariga anziché diventare deserto metti il ginepro rosso e fai una buona macchia mediterranea tanto per cominciare però non va messa con coltivazioni intensive perché è suscettibile al fuoco grosso e grasso problema di cui ne parleremo magari domani sotto abbiamo la salvia a sinistra e quel grosso alberone enorme guardate la strada come è piccola è un albero di canforo il canforo è una pianta che è aromatica da cui si estraevano le palline di canforo per tenere lontane le tarmi dai vestiti adesso pure quella sostituita con la canfora sintetica questi alberi poverini restano solo nei giardini per essere ammirati diventano enormi sono bellissimi e hanno le foglie molto molto aromatiche e sono dei sempreverdi si accontendono anche di poco un po' di acqua all'inizio per farle partire ma questo arriva anche un po' più su anche un po' più su finché non le gelate d'inverno non sono troppo lunghe arriva a Franguella però in paese in campagna invece ce l'ho ancora in vaso anche se è già due metri è un vaso enorme e non l'ho provato in piena terra ma credo che ce la farà se gli trovo un angolino un po' più riparato quindi da me siamo alla situazione limite ma dai 300 metri ad andare giù va benissimo canforo cinanomum canfora si chiama e poi alla fine l'ultima la biodiversità del cavolo insomma sembra un po' una battuta ma in realtà anche solo con questa pianta anche solo con questa pianta guardate quante se ne possono ottenere a parte i ravanelli a sinistra gli altri sono tutti cavoli generati da brassica oleracea che era il cavolo selvatico che tra l'altro il cavolo selvatico è una pianta spontanea del Mediterraneo che diventa alta da 2 a 3 metri e perenne e vive tanto a lungo e vive abbastanza a lungo e da quella pianta selvatico a 2-3 metri sono riusciti ad ottenere questi cavoli moderni alti 30 centimetri con delle verze belle grosse ed enormi con tutti i cavolfiori i broccoli i cavoli colorati i cavoletto di Bruxelles i cavoli quelli lunghi tipo cavolo cinese e quant'altro anche se il cinese deriva da un'altra famiglia ma poi hanno fatto gli incroci non c'è problema basta incrociarle e combinarle di tutti i colori e quindi una pianta con tante varietà tanti gusti tanti sapori diversi e tante utilizzazioni diversi per tutto l'anno ci ne sono sempre la stessa storia per ogni varietà per esempio il cavolo violetto c'è quello medio quello precoce quello tardivo e quindi già devi mettere tre diverse varietà per una sola colorazione poi prendi il cavolfiore medio tardivo precoce e tutti gli altri la stessa storia quindi ci si può sbizzarrire veramente come un artista quando dipinge con i colori può fare di tutto di più allora abbiamo ancora mezz'ora andiamo avanti e un attimo di pazienza che riprendiamo l'altra l'altra lezione e come al solito il computer fa i capricci chiedo il supporto di un tecnico informatico grazie ieri andava bene ma oggi io dovrei fare un corso di informatico non ho tempo allora c'era questa fede insomma organizzazione di un database delle specie di pianodizzazione organizzazione 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 non ce n'è finito abbiamo finito che bello allora così non vi sto più a fare una testa grande così grazie allora la mia manager mi dice che era questa la lezione l'organizzazione del database era tutti insieme cioè quegli elenchi che possiamo recuperare qui dal powerpoint in realtà io sono andato veloce pensavo a ciò che vi dovevo dire e alle vostre domande che mi avevate chiesto e volevo rispondere e mi dispiace se qualcuno non gli do abbastanza retta perché siamo tanti e a volte intanto che rispondo uno continuo a parlare con l'altro quindi le lezioni erano tutte qua erano concentrate in queste quel database erano degli elenchi semplici come base ma proprio base di inizio per avere un'idea di che cosa si può coltivare sotto le nostre piante visto che abbiamo un po' di tempo se per voi va bene adesso questo tempo circa 30 25 25 20 minuti le possiamo utilizzare per le domande quelle che oggi vi avevo chiesto di trascrivere o di appuntare dato che andavamo un po' più veloce il microfono chi lo detiene ok va bene se qualcuno ha da fare delle domande prego si cominciavo io intanto volevo dire io in giardino ho un albero di feoia o feijoia feijoia che viene porta molti frutti anche se effettivamente ha la sua età cioè fruttifero da parecchio insomma ed è interessantissimo per fare è un frutto molto profumato molto molto profumato si ed è interessantissimo per produrre rosoli o comunque liquarini molto profumati e ultimamente ho provato anche a portarlo a un bar ad Altamura che fa il gelato ed è venuto fuori un gelato che alcuni hanno detto eccellente spettacolare proprio quindi chi ha intenzione sappiate che ti faccio i complimenti non è un frutto che si si lascia gustare molto facilmente cioè lo devi non tutti i palati lo apprezzano lo devi assaporare forse più con il naso che con il palato non tutti i palati non tutti i palati lo apprezzano però in alcune ricette dà il massimo del proprio profumo ed è apprezzato allora sì ti ringrazio no è il bar mocambo però è solo quando gli porto le fegioie che può può farlo non è non è disponibile tutto l'anno è solo per pochi no 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 io non ho parlato di bar è venuto fuori da lui comunque la mia domanda era anche questa anzi ce ne ho due l'albero l'elianto che alianto ai lanto sì che da noi viene considerato come infestante effettivamente c'è una crescita poderosa rapida pollonante e quant'altro sì lo so i forestali lo considerano l'unica pianta valida su cui tirare l'accetta che quando me l'hanno detto gliel'avrei data allora cosa cosa permette di fare allora l'ailanto va a colonizzare le parti più degradate le scarpate per esempio di terriccio sciolto che sta franando lo blocca perché mette polloni alla rinfusa e quindi innanzitutto colonizza questi terreni se invece si trova in un terreno utilizzabile non friabile non soggetto a dilavamento e frane quant'altro l'ailanto produce una buona quantità di massa legnosa e anche velocemente per il compostaggio e all'interno di queste macchie di ailanto che sembrano infestanti si può cominciare a piantare qualche altra cosa della vegetazione circostante come per esempio nella fascia mediterranea il leccio il leccio ha bisogno di sole si è vero ma da piccolo gradisce un po' d'ombra e quindi l'ailanto gli fa l'ombra ogni due anni tagli tutti gli ailanti o ne lasci qualcuno per gusto estetico o quant'altro e così dai spazio al leccio di crescere piano piano la successione tra gli alberi vi ricordo è sempre una questione di tempi lunghi però se l'ailanto rimane all'ombra sotto i lecci sparisce si estingue oppure si sposta più avanti in ogni caso l'ombra è un fattore molto limitante per la crescita dell'ailanto però intanto ti ha trattenuto il suolo e ti ha formato sostanza organica è consigliabile se non c'è rischio di incendio si potrebbe anche tagliare e lasciare sul posto così fai una paccia matura bella grossa e compatta se i fusti non sono di dimensioni eccezionali se sono più grossi legna da ardere è ottimo perché produce una fiamma molto viva e molto forte anche se non produce carbone però il barbecue ci viene una meraviglia e poi queste le utilizzazioni più pratiche più veloci e poi da non trascurare che comunque l'ailanto era stato introdotto in Europa per consolidare appunto i terreni smossi i terreni friabili ah sì giusto grazie può tirare le api non fa niente le api toccherò solo il fiore seconda domanda nelle periferie crearsi un orticello con la compostiera presente il problema dei topi o comunque dei topi di città che sono anche un po' più pesanti sicuramente nelle periferie non ci sono predatori o quando ne ho visti forse erano anche un po' rintontiti perché molto spesso le avevano avvelenati col veleno per topi avevano predato topi magari avvelenati cioè i topi avvelenati i predatori eh sì i predatori ho visto qualche barbagianni tutto rintronato di giorno cosa che non è normale vanno a sbattere contro le auto perché non è normale perché sì ma perché comunque cacciano sono animali notturni allora hai aperto un problema un problema mi chiedevo il la compostiera che attrae tanti topi come si può creare un certo equilibrio senza rete metallica i topi i topi si infilano dappertutto l'unico predatore che si infila in un buco per catturare i topi e i serpenti ma immaginiamoci un po' di tenere i serpenti dopo i topi e cominceranno a vedersi le aberrazioni più pazze le persone che strillano in piena notte in pieno giorno allora solo al pensiero allora il predatore era quello era stato introdotto contro i topi il famoso felino predatore che si chiama gatto ma anche questo non gli danno vita facile non gli danno vita facile perché nelle periferie rischiano più di andare sotto le macchine che di cacciare i topi poveri animali e i ratti si i ratti si 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 perché adesso l'ecosistema anche in quel senso sta cambiando allora per difendersi dai topi scherzi a parte bisogna prevenire il punto in cui vanno a rintanarsi allora agli animali gli animali interessano tre cose cibo rifugio e partner allora bisogna bloccare queste tre componenti o almeno alcune di queste tre sia gli animali che vivono in natura sia quelli allo stato semibrado o infadente o infestante che siano hanno sempre bisogno di cibo rifugio e partner allora è inutile hai aperto una piaga che ne volevo parlare è inutile essere degli psicopatici con questi maledetti veleni per topi perché i topi quando mangiano il veleno innanzitutto lo mangiano solo alcuni esemplari del branco escono rintontiti dalle tane in preda ai dolori perché questo veleno gli causa lesioni renali e poi quando sono rintontiti il primo predatore che passa li riesce a prendere facilmente specialmente se passa a un orario in cui il topo non ci dovrebbe essere a me mi hanno avvelenato una gatta incinta con questo modo dei vicini con la testa baccata che mi dicono eh ma noi non abbiamo gatti mi dai un gattino e non avrai mai il gattino perché se continui ad avvelenare i topi i gatti muoiono perché mangiano i topi una cosa togliere il rifugio ai topi se hai una catasta di legna è un casino è un problema perché nella catasta di legno i topi entro ed escono dove voglio ma togli il cibo la compostiera fa da cibo e da rifugio quindi una rete metallica a maglie zingate piccole quelle che si usano pure contro le faine nei pollai e si isola questa compostiera da tutte le parti su fondo lati costa un po' però ci riesci la isoli da tutte le parti quindi sotto sopra in ogni punto e poi ci metti la compostiera dentro questa gabbia con il coperchio sopra che apri e chiudi apri e chiudi il coperchio della compostiera e apri e chiudi pure il coperchio della tua gabbia è la stessa cosa che ho fatto più o meno con le mele ed è l'unico sistema così il topo smette di avere cibo e rifugio spero di essere per rubare la fidanzata il partner se lo va a trovare in un'altra parte ma quando non ha cibo e rifugio attenzione ragazzi perché è simpatica questa cosa gli animali se non hanno cibo sufficienza e se non hanno un rifugio ma soprattutto cibo non vanno a cercarsi il partner perché hanno altro da pensare tornando un passo indietro a proposito della fegioa mi aveva fatto ricordare Raffaele che la fegioa è una di quelle pochissime piante al mondo dove sono commestibili addirittura i petali i petali della fegioa appena aperti prima che sfiorisca prima che smaturi no anche loro sanno come lo zucchero colorato che si mette sulle torte infatti è simpatico se si ha questa pianta in giardino in concomitanza di compleanni farci le decorazioni a posto dello zucchero colorato sono buoni sono simpatici e sono proprio dolci da succhiare dopo che hai raccolti i petali cresce anche il frutto perché i petali servono da attrazione per gli insetti ma tu raccogli due tre petali ogni frutto e comunque l'insetto è attratto dall'odore del polline e l'imbollinazione va avanti lo stesso spero di essere stato chiaro domande dimmi microfono avanti per favore grazie sempre a proposito della Fejoa ne ho due una che ho messo due anni fa o più e non ha mai fatto un fiore bella cresce quant'è alta? così ok dovrebbe cominciare allora a maggio forse ai giardini di Pomona che è un orto botanico vicino a Cisternino ho comprato un'altra Fejoa perché aveva due fiori ho detto bene il tuo ha due fiori speriamo bene l'ho messa e alta uguale però è diversa ha fatto tre fiori totale e basta l'altra non ha fatto mai fiori questa ha fatto questi tre fiori non so se è una questione di tempo e crescono benissimo sono rigogliose hanno per caso ombra? no c'è pieno sole sì l'estate potresti provare ad aiutarle con un po' di irrigazione nel momento della fioritura la Fejoa a volte si comporta come gli agrumi il problema solito degli agrumi io li stavo innaffiando tutti i giorni e poi ho messo l'irrigazione a goccia sì perfetto ogni mattina alle 5 10-15 minuti di irrigazione e sono cresciute ancora di più loro e le altre sarebbe da considerare il fattore tempo bisogna aspettare un altro po' perché probabilmente sono in una fase giovanile specialmente se mi dici che stanno crescendo così bene quindi la pianta nella fase giovanile non produce frutti perché le gemme sono tutte gemme al legno cioè le gemme che formeranno altri rami per andare ancora un po' più su sono autofertili non hanno bisogno di maschio femmine anche se girano in commercio delle varietà innestate con frutti molto grossi e quindi potrebbero avere più problemi potresti provare a vedere se si nota qualche punto di innesto però è difficile perché se è stata innestata molto piccola ormai si è cancellato tutto prova ad aspettare un altro po' perché anche se poi non sono autofertili comunque i fiori dovranno uscire anche all'altra se stanno crescendo la ringiovanisce ulteriormente non lo consiglierei perché è un intervento complicato da fare perché la feciola la puoi portare pure ad alberello e la puoi sfoltire però è una pianta che non si presta non reagisce tanto bene alla potatura è una pianta un po' selvatica io stesso non saprei dove tagliare preferirei piuttosto aspettare un altro paio di anni quell'intervento che dici è interessante ma ancora aspettare un altro po' puoi avere il microfono per favore perché così arriva arriva nulla solo per aggiungere a volte anche solo con dei taglietti alla scella dei rami si può ah si ha introdotto un'altra cosa molto interessante quella che in agricoltura si chiama l'incisione anulare allora se hai un ramo da eliminare non di dimensioni ciclopiche ma un ramo diciamo dell'ordine da un centimetro di diametro fino a 10 15 20 centimetri di diametro cosa si fa questo ramo nel periodo primaverile quando la corteccia si solleva facilmente si fanno due incisioni tutti intorno al ramo e si stacca la corteccia come un anello ecco perché incisione anulare come un anello tutto intorno al ramo oppure se ne lascia solo una piccola porzione sottile sottile come una fascetta che collega la parte inferiore con quella superiore togliendo l'anello di corteccia cosa succede lo si fa con gli ulivi con i peschi con molti alberi da frutta la linfa negli alberi abbiamo tralasciato ma può essere interessante riprendere questo discorso la linfa nella parte centrale del fusto va su e ridiscende nella parte sotto corteccia quindi togliendo la corteccia la linfa non riesce ad andare più giù può salire nutre il ramo ma il ramo non nutre la pianta facendo questo il ramo è come se automaticamente si trovasse ad essere in una condizione di pre-morte allora l'albero prima di morire e succede anche in molti alberi vecchi quando stanno prima che sanno già che stanno per cadere o prima di seccare gli ultimi due tre anni producono tantissimi frutti a volte di piccole dimensioni ma danno delle cariche eccezionali e poi seccano questo per dare una sprint alla vita e difondere quanti più semi possibili quel ramo si comporta in questo modo quindi questo ramo è come se invecchiasse propriocemente brutalmente produce tutte gemme a frutti viene carico di frutti il primo anno e poi comincia a perdere le foglie nell'ulivo vive anche due anni in alcuni casi solo che il secondo anno già perde il 60% delle foglie e produce ancora meno frutti di soldo lo si usa questo sistema per un solo anno quindi si incide in primavera si lascia fiorire fruttificare si raccolgono i frutti alla raccolta dei frutti o subito dopo si taglia tutto il ramo recuperi della fruttificazione e soprattutto non squilibri la pianta in modo disordinato perché intanto dove hai fatto l'incisione saranno germogliati dei nuovi rami e la pianta si è già preparata gli dai tempo di prepararsi prima di togliere ciò che deve essere eliminato quasi tutte le piante l'ailanto va in fruttificazione quindi ti fa più semi nasceranno ancora più piante là intorno però un albero prima di morire in questo modo ci può impiegare anche tre anni se è un albero grosso dipende dalla specie alcune specie sono più sensibili impiegano un anno altre impiegano di più ma è una tortura le pere quelle piccoline verdi croccanti sono di nuova generazione non è una qualità piccole verdi croccanti dovrebbero essere di antica generazione di antica varietà di antiche varietà ce n'è una che matura alla fine di giugno si chiama Giugnola opera di San Giovanni addirittura che è piccola quanto una moneta da un euro è microscopica matura alla fine di giugno sull'appennino da me qui dovrebbe maturare anche 15 giorni prima e anche queste qua croccanti sono di antiche varietà però probabilmente sono state migliorate a volte cioè si prende un'antica varietà la si coltiva la si moltiplica e si tenta di ottenere una pianta che abbia caratteristiche ancora più gradite di quella precedente così hai una varietà antica rinnovata è un procedimento normale che si fa ed esiste per quanto riguarda quella pera non so la provenienza di quale possa essere comunque so che ne esistono già alcune di caratteristiche buona ok si ah si 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 è un'antica varietà è normale si è stata già migliorata tanto tempo fa e forse esiste da più di 50 anni si e quindi va bene e tra l'altro è un albero anche di piccole dimensioni si anche se lo si innesta quest'albero su un portinnesto vigoroso su un pero selvatico su un perastro selvatico rimane piccolo lo stesso e la cosa è simpatica perché con poco spazio puoi avere un portinnesto forte per terreni resistenti forte resistente alla realtà per terreni difficili con una pianta di piccole dimensioni e i frutti sono buoni sono di buona qualità microfono fatelo girare dietro per favore posso è una domanda abbastanza elementare forse anche abbastanza stupida nel senso che io mi rendo conto che in campagna ogni zona cambia proprio a palmo di mano cambia come dicevo ieri da un palmo all'altro se io voglio o vorrei comunque popolare un determinato spazio nella progettazione da dove si incomincia cioè io penso per esempio le piante che ci sono adesso quindi o comunque quelle che forse c'erano faccio una ricerca storica quelle c'erano allora me ne penso una poi penso semmai la consociazione che questa potrebbe avere con quella di a fianco l'altà dove vado a finire dove vado a finire in un forest gardening scusami se lo dico in questo modo se esiste una progettazione da seguire cioè un percorso no non esiste uno schema a me mi hanno chiesto a volte di pubblicare di scrivere qualcosa non esiste uno schema perché se lo faccio cosa combino? faccio uno schema per quale clima per il mio e non va bene per te lo faccio per te non va bene per qualcun altro quindi il clima la consociazione cioè cos'è che devo prendere? allora tu considera che ogni pianta ha bisogno di un certo quantitativo di sole quindi considera sole quello che stava in alto nel disegno che c'era ieri considera ombra che si creano e dimensioni allora se vai a mettere mandorlo e ulivo non troppo vicini perché hanno bisogno di sole tutte e due però possono stare diciamo adiecenti perché hanno dimensioni piuttosto simili all'inizio poi l'ulivo è millenario andrà avanti per fatti suoi e il mandorlo finisce prima ma non è un problema se tu parti all'inizio parti con piante simili con crescite simili quindi quei fruttiferi quegli alberi che avevo indicato là si possono utilizzare tranne il noce o il pecan che sono quegli alberi grossi da fare come frangivendone a mettere in punti strategici per limitare l'insolazione a mezzogiorno gli altri li puoi mettere tutti quanti insieme perché fanno parte della nostra cultura antica e contadina cioè peri meli prugne i cachi o le susine il gelso senza ordine senza ordine no perché io non si può capire la natura no questo è chiaro no l'ordine l'ordine che tu mi chiedi lo devi seguire soltanto se tu quei frutti li devi vendere devi passare con un trattore con un neuroratore con un aratro e con un carrello per raccogliere e per smaltire quant'altro con cimi e quant'altro ma se il tuo non è un campo di frutta da dover vendere per forza quindi a livello amatoriale personale autosufficienza e poi il surplus lo puoi scambiare o vendere ulteriormente non c'è nessun ordine di solito l'unico ordine da seguire è quello più o meno di metterli in fila così sarà più facile un qualsiasi passaggio o intervento ma le file parallele sono un po' aberrandi sono un po' brutte sono delle forzature quello che può essere più utile è la collocazione delle piante a quinconce quinconce è come la scacchiera è presente la scacchiera le macchie bianche e nere le macchie bianche le parti bianche vuoto la parte nera è una pianta quindi se ne metti una qui e una lì la prossima non sarà davanti a me e davanti all'altra ma la prossima sarà qua al centro e poi un'altra una destra e una sinistra e poi la prossima al centro questa è quinconce le piante sembrano un po' più irregolari respirano di più hanno anche maggiore spazio di azione per le radici e certamente è ostacolato dal passaggio degli attrezzi dei macchinari quindi devi mantenerti con uno spazio in più perché non puoi andare in lungo il filare ma almeno ci puoi passare a zig zag attraverso hai bisogno di spazi in più ma sicuramente viene un bel effetto puoi usarlo anche per gli arbusti sarebbe il sistema più bello più naturale per coprire il terreno in modo omogeneo e senza avere questi filari paralleli così schematici che non tutti insomma apprezzano i filari paralleli ripeto sono sempre prodotti dalla meccanizzazione in agricoltura infatti i vecchi uliveti quelli più antichi ma veramente antichi erano sparpagliati per i campi e non erano così in fila 8 metri sì sì 8 metri li ho contati di persona 8 metri per 8 un ulivo perché dentro ci dovevano seminare ci passavano con i buoi per seminare e non gli creava nessun problema invece una metitre beatrice con una barra falciante di 6 metri già ha dei problemi non ci può andare più scusa per rispondere a lei pirus amigdaliformis per astro selvatico amigdaliformis cioè a foglia di mandorlo il biancospino è un cratecus della famiglia delle rosace e va bene per innestarci sopra in espolo germanico il sorbo eh sì alcuni mi hanno detto che va bene però tende a rimanere piccolo quindi va in stato a livello del suolo altrimenti la pianta si può strozzare 5-10 centimetri dal suolo sì per fare un pero piccolo si può usare anche il biancospino dove cresce rigoglioso niente per dare una risposta alla signorina devi avere un'immaginazione di un albero da bambino finché diventa grande da quella immaginazione tu lo posizioni dove passerà la sua vita sì e cosa c'hai di partenza dammi un esempio di una partenza per esempio c'è una zona che è quasi collinare infatti da quando non ci sono più stati utilizzati i cingoli adesso praticamente è desertica cioè deserto e quindi così è deserto senza alberi nessun tipo niente infatti è a rischio frana insomma andrebbe tutelata in qualche modo con tutti quei discorsi che dicevamo allora pendenza subito considera l'esposizione quanto sole ci batte se sta rivolta ti metti alle spalle della pendenza e guardi davanti a te se ci passa il sole o se il sole ti passa alle spalle o di fianco e così valuti la pendenza se il sole ti passa davanti di fronte sei con una pendenza esposta a sud quindi il massimo del calore se ti passa qua di fianco è esposto a ovest se ti passa qua di fianco è esposta a est sto storto ma est da questo lato se ti passa alle spalle il sole della pendenza è esposta a nord quindi più fresca in base a questo vai a scegliere le tue piante quelle che hanno bisogno più di clima fresco o caldo poi un'altra cosa quanto suolo c'è sotto c'è la roccia o è solo argilla suolo no no solo argilla quindi come una zona argillosa come la provincia di Matera allora se c'è solo argilla ed è soggetta a frana è interessante andare subito a intervenire con piante con apparato radicale profondo così ti bloccano il sole in profondità però selvatico rosa canina rosa canina sì ma non va molto in profondità piuttosto in larghezza però selvatico e rosa canina sono le piante che vanno a crescere in quest'ambiente in condizioni naturali qualche ginestra io la consiglio qualche ginestra come il sale nella minestra scusate la rima ma attenzione non esagerare perché porta velocemente il fuoco è una pianta che si incendia poveraccia povera lei quello che passa lei si riprende subito però poi fa bruciare chi gli sta intorno che spesso non si riprende quindi iperoselvatico si vuole dei frutti che ha l'apparato radicale profondo ma pirus amigdaliformis non iperoselvatico dell'appennino quello con la foglia a forma di cuore ma quello con la foglia lunga che cresce naturalmente lì vicino cresce già lì intorno lo troverai poi se non vuoi una produzione da questo bosco se non vuoi proprio una produzione esclusivamente fruttifera metti un po' di tutto quello che sta intorno all'ambiente naturale qualche roverella qualche ginestra va bene qualche fragno qualche leccio e poi puoi mettere una pianta molto interessante che copre e blocca il terreno e non è tanto suscettibile al fuoco a proposito di chi mi chiedeva le piante più resistenti al fuoco c'è l'oleandro che non è tanto sensibile al fuoco in certi versi ma è sempre una pianta e il lentisco l'oleandro ha bisogno di terreni un po' più freschi il lentisco invece cresce proprio sulle colline più argillose più asciutte che esistono nel sud Italia coprono il suolo con una chioma rotondeggiante e quindi bloccano sia l'erosione sia l'insolazione nel suolo queste piante ricordati non sono per sempre dopo dieci anni dopo quindici anni dopo il tempo che vuoi tu le puoi sostituire tagliandole eliminandole insomma quello che meglio ti riguarda e mettere qualcos'altro come? vetiver vetiver ma sì però mi sfugge in questo momento perché mi pare sì l'ho sentito l'ho sentito sì sì ma non è di questi ambienti mi pare eh sì ce l'ho in mente ho in mente il nome ma non mi ricordo la forma va bene comunque tutte queste piante vanno bene perché ricordati che nessuna pianta sarà tanto aggressiva quanto lo è l'erosione il sole e il vento le piante servono sempre a bloccare fanno sempre roba buona io in situazioni estreme ma molto estreme ho usato addirittura l'ailanto e ho scoperto sotto l'ailanto dopo dieci anni lungo i bordi di una fiumare in un ambiente limitato e controllato che ha permesso la crescita dei pioppi lungo i bordi di una fiumare dove acqua non ne passa e i pioppi non ci sarebbero mai cresciuti perché cosa ha fatto l'ailanto con le radici ha prodotto quel miglioramento del suolo di cui tanto si parla ha emesso polloni dappertutto che devo controllare continuamente però intanto il suolo si è migliorato e anche lo strato erbaceo è aumentato da uno strato erbaceo di un ambiente di semi deserto perché le fiumare dove non passa più l'acqua sono ambienti quasi tra la steppa e il deserto dove lo strato erbaceo era di 5 centimetri adesso è di 50 centimetri questo in 10 anni è una soddisfazione anche se tutti dicono che l'ailanto l'acqua l'hai messa a fare è utile ogni pianta è utile e ogni pianta può essere un vantaggio non è mai uno svantaggio anche la pianta più puzzolente che esiste toglierla è sempre più facile che farla crescere specialmente in ambienti difficili ultima cosa che tipo di innesto possiamo fare per mettere il pistacchio sul lentisco a gemma io l'ho comprata delle piantine per prova e ho visto che sono in estate a gemma non conosco bene il periodo ma sicuramente per fare l'innesto a gemma lo devi fare appena la pianta sta per entrare in vegetazione gemma vegetante eh sì esatto gemma vegetante e ci dovrebbe essere il vantaggio che il lentisco o il terebinto che è migliore il terebinto va in vegetazione prima del pistacchio qualche giorno prima quindi la gemma di terebinto può essere staccata la corteccia può essere staccata facilmente la gemma di pistacchio la stacchi con un po' di difficoltà in più però dove la vai attaccare c'è della linfa che sta fluendo e subito ha l'ancoraggio necessario il selvatico il portinnesto del pistacchio è proprio il terebinto che è una pianta di ambienti aridissimi non l'ho nominata perché l'utilizzazione altra che come portinnesto è solo ornamentale però in certi ambienti è consigliabile sicuramente ambienti difficili come diceva la nostra amica allora stiamo finendo chi deve scappare vada pure io fermo ancora 5 minuti per rispondere alle domande se ce ne sono sì 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 allora nella stesso terreno con situazioni simili avrai sicuramente non avrai problemi di frane non avrai una stabilità maggiore però c'è solo di lavamento il terreno è completamente nudo? in alcuni punti c'è la roccia in superficie in alcuni punti ho trovato tanta terra così ok se vuoi fare è una cosa che mi è sfuggita anche la nostra amica perché lei mi parlava di frane quindi ho detto di intervenire subito con degli alberi invece da te che non c'è il problema frane puoi intervenire con una semina anche manuale se la superficie non è grande con trifoglio una qualsiasi specie di trifoglio comincia a farti uno strato erbaceo previa prevenzione dagli incendi quindi o la fascia solita fascia di incendio circunperiferica di tutto il terreno oppure tanta 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 sorviglianza capillare a proposito degli incendi apro questa parentesi che mi era stata chiesta cosa si può fare per prevenire ragazzi gli incendi sono una delle piaghe sociali peggiori che esiste in natura oltre l'inquinamento e in certe regioni purtroppo lo ribadisco e lo dico a malincuore si davano dei finanziamenti per spegnere gli incendi piaga sociale di questo tipo è rimasta ancora in Calabria perché in Calabria degli operai purtroppo tipo i lavori socialmente utili che io chiamo socialmente inutili e tante altre forme di dipendenza sociale che creano davano dei finanziamenti agli operai del candiere forestale per le giornate che occupavano a spegnere gli incendi l'anno sorribilis di tutto questo è stato il 2011 dove hanno bruciato mezza Italia mezza Italia bruciata ma quasi veramente mezza Italia di superficie perché queste persone erano disperate non avevano il minimo quantitativo di giornate per avere la disoccupazione o i contributi di vecchiaia allora dico io ma cavoli ma così si ragiona ma se queste persone proprio gli dobbiamo regalare dei soldi che dagli per andare a spegnere gli incendi ma diamogli per piantare le piante e per fare sorveglianza all'incendio in Basilicata ci sono arrivati dopo un po' ma prima ne hanno fatti di incendi di cotte e di crude altre regioni sembra che ancora non se ne sono accorti di questo problema io ne parlo con grave rammarico perché le zone più gravi colpite dalle problemi di siccità sono anche quelle più aggredite dagli incendi Sardegna Calabria Sicilia e Puglia la Basilicata si è un po' bloccata ma in Puglia non so se avete visto in largo e lungo fino alle periferie delle città ci sono questi campi tutti bruciati le scarpate delle strade tutte bruciate ma dico io la Puglia fa 4 milioni di abitanti e nessuno si rende conto che stanno bruciando mezzo mondo perché? perché dicono vabbè tanto stai in un campo circoscritto da case o da strade l'incendio non va oltre ok sì va bene circoscritto ma stai sterilizzando quel campo là non ti crescerà mai la macchia mediterranea diventerà deserto prima o poi e fuori di sterilizzarlo in quel modo quindi se noi abbiamo e chi si preoccupa un terreno del genere si può piantare il trifoglio si possono mettere delle piantine di vario tipo come gli arbusti che dicevo prima corbezzolo per esempio o anche la ginestra che tra l'altro corbezzolo e ginestra e peroselvatico nel caso sciagurato dell'incendio riescono a rigenerarsi abbastanza velocemente anche il prugnolo o prugnolo come si suol dire riesce a recuperare velocemente il problema è che però anche se la pianta recupera si ritorna indietro e non si ha un'evoluzione ma si ha un'involuzione e soprattutto con la cenere non hai arricchito il suolo perché appena ci sarà la prima pioggia quella cenere te la dilava ovunque e non solo l'hai sterilizzato ma l'hai pure denutrito impoverito termine esatto quindi le fasce di incendio benvengono e sono importantissime e poi la prevenzione capillare è importante e poi ci sarebbe bisogno tanto di cambiare e di modificare anche la cultura a partire dalle scuole e dai ragazzi perché oggi vedere un bosco che brucia o un campo che sta bruciando per i bambini molto spesso è uno spettacolo oppure è un fenomeno naturale sta bruciando c'è il fuoco va bene andiamo avanti e no non è così anche se un campo piccolissimo non è così non è mai una pratica accettabile il fuoco è una pratica aberrante è la pratica peggiore dopo il diserbo in cima a tutte le pratiche peggiori che esistono il diserbo poi subito dopo il fuoco e non è una considerazione che faccio io non sono un estremista però è così perché quel suolo che dicevo vivo i microorganismi e i nostri lombrichi e quant'altro si va a far friggere con il fuoco che ci passa sopra almeno lo strato superficiale viene cotto poi dipende dalla quantità di calore dalla quantità di tempo che rimane la fiamma però comunque sterilizza è altro che vita se la sterilizziamo non è più vita la prevenzione è importantissima e ripeto le fasce di incendio e le prevenzioni non ci sono al momento piante che in ambiente mediterraneo rifugono il fuoco perché succede che anche l'oleandro o il lentisco che non sono eccezionalmente attaccati al fuoco in ambiente mediterraneo cominciano a produrre una lettiera di foglie secche l'oro la producono poveracce per salvarsi dalla evapotraspirazione per farsi la autopacciamatura questa autopacciamatura tanto importante tanto decantata in questo corso può essere nient'altro che la fine della pianta stessa perché è un ottimo materiale di innesco e di passaggio del fuoco ma la natura deve andare in una certa direzione la si deve aiutare come si aiutano le piantine con l'acqua e il paletto il sostegno e il nostro giardino così allo stesso modo si deve aiutare un po' con la prevenzione e sperando anche con il cambio di cultura e di mentalità altre domande? Dietro il microfono per favore chi deve andare ci vediamo domani al solito appuntamento grazie buonasera io solo volevo consigliare a chi ha dei terreni vuoti ci fa molto piacere consiglio basta andare in qualunque parco più vicino più vicino sì bravo grazie grazie e mi gettono perché le ghiande rispetto a tutte le altre piante una volta che attecchiscono anche se danno fuoco riescono sempre a ricrescere io questo faccio anche un accenno alla forestale che dopo 50 anni non ha capito che non deve piantare più pinete che dopo l'incendio non ricrescerà più niente ma ripiantare l'albero delle piante dell'essenza autoctone autoctone che sono voglio dire devono andare con gli scavatori per distruggere una ghianda riproducono continuamente anche dopo l'incendio perciò se voi avete delle campagne vuote volete piantare qualche cosa questa è la pianta miracolosa si può fare si può fare in aggiunta mi fa molto piacere di questa tecnica scusate scusate un attimo si può fare è anche una pratica che accelera questo procedimento se si vuole si possono fare dei solchi con il trattore da ratura superficiale tutti intorno e seminare queste ghiande io vi racconto un'esperienza che ho fatto in Grecia da Panos siamo andati a gettare tutte queste ghiande su delle colline che avevano dato fuoco noi le abbiamo impastate con un po' di argilla abbiamo messo anche altri semi io ho visto poi le foto in primavera di queste colline l'anno prima che erano tutti bruciati dopo un anno ho visto le foto dopo due anni sembrava un altro mondo un altro pianeta in due anni in solo due anni ti ringrazio moltissimo perché questo significa è l'essenza di quello che cercavo di sforzarmi di dire aiutare la natura dargli una mano perché è stata martoriata per 2000-3000 anni adesso un aiuto è necessario specialmente in ambienti difficili come questo un aiuto un intervento può fare tanto può accelerare quei processi di evoluzione della magia che in natura ci mettono cent'anni per crescere il bosco ci vogliono decine e decine di anni ma mettere delle piante si va velocemente io addirittura consiglio in ambienti molto difficili di intervenire con specie diverse fare quello che fa la natura non seminare non piantare mai tutta la stessa specie ma addirittura metterci dentro anche di specie differente pure specie che vengono da fuori di tutto abbiamo messo perché la natura seleziona quelle più forti io mi sono permesso di fare un esperimento quando avevo un po' più di tempo ai primi anni dell'università con un calanco cioè il calanco è una formazione argillosa franosa dove era praticamente deserto non c'era niente ogni anno questo terreno si dilavava e l'abbiamo comprato così perché i vecchi proprietari aravano e coltivavano fino sul ciglio della frana tanto pur che andava giù aravano un po' più in là allora appena l'abbiamo comprato noi i primi anni ho dovuto riflettere cosa fare volevo mettere di tutto ma l'argilla quando si spacca si spacca fino a un metro di profondità è aridissima non permette la crescita di nulla intorno alla vegetazione è fatta da orniello che è un piccolo frassino querce e ginestre le querce avevano quel problema non sapevo dei semi abbastati con l'argilla su un suolo del genere se mettevo il seme di quercia cresceva e nasceva ma con tre centimetri all'anno intanto che diventava piantina si era dilavato tutto intorno e restava isolato perché l'argilla veniva scavata dalle piogge durante tutti gli anni e tutti gli interventi tutti gli anni successivi ho dovuto intervenire con delle piante a crescita veloce e con una copertura fogliare perenne che quindi dovevano bloccare l'erosione e poi coprire tutto subito velocemente sono dovuto ricorrere alle conifere pini e cipressi soprattutto il cipresso cipresso comune quello con le fronde larghe non quello colonnare ha coperto velocemente in dieci anni ha bloccato l'erosione totalmente e la mia grande soddisfazione è che sotto i cipressi si è formato uno strato di humus di compost dove sono andate a nascere le querce il mio prossimo aiuto dovrebbe essere quello di sfoltire i cipressi e fare andare sulle querce perché in ambienti estremi c'è bisogno di soluzioni estreme le conifere sono state usate all'aria infusa dove non c'era bisogno perché pensavano di fare tanto legname poi si sono scoperti che il legname lo portano gratis dalle foreste tropicali e i nostri boschi di conifere sono rimasti pure abbandonati al fuoco e a quant'altro c'è bisogno di intervenire sempre a tutti i livelli se la natura è stata modificata per indirizzarla verso un percorso naturale c'è bisogno di tempo e di intervento se si aspetta ci vuole molto di più e intanto il calanco che avevo io a quest'ora sarebbe diventata una montagna non più una scarpata franata ma una montagna e l'ho bloccato ci sono uscito con un costo irrisorio negli anni 90 le piantine dal vivai forestali sapete quanto costavano? un prezzo che era rimasto indietro di 40 anni costavano 40 centesimi a pianta scusami 40 lire buonanotte allora 40 lire a pianta con 40 mila lire ho riempito tre viaggi d'auto che ho dovuto fare per trasportarmi tutte quante perché poi te ne danno anche qualcuna in più non sono avari non ti vendono le piante misurate sulla bilancia quindi tre viaggi d'auto con i sedili abbassati con queste piante vanno indietro a portarle a trasportarle e due mesi per piantarle e un amico che mi ha dato una mano un altro ragazzo come me che gli ho rubato un po' di tempo e a fare le buche e mettere queste piante un po' alla volta i primi anni è stata difficile solo il primo anno ho dovuto dare un po' d'acqua tre volte in tre mesi quindi una volta a mese il cipresso veramente è una pianta essenziale del Mediterraneo deriva da cipro quindi più arido di quello cosa vogliamo e poi ha innescato questo meccanismo che è cresciuto velocemente ha chiuso ha bloccato l'erosione sotto le conifere dice non cresce niente non è vero che non cresce niente sotto le conifere si prepara ciò che verrà dopo si prepara un substrato di terreno che non c'era l'argilla era assumibile alla roccia nuda che c'è qua nelle murge dove c'è solo roccia e non c'è niente però l'unica differenza è che nell'argilla puoi scavare e ce la puoi infilare una pianta ne avevo messo circa dieci di varietà tra cui anche il bagolare lo spacca sassi ha detto se spacca i sassi va pure nell'argilla no nell'argilla è asfittica troppo fredda troppo bagnata d'inverno non è andato bene il pino d'aleppo il cipresso è andato bene il cipresso dell'arizona è già andato così così non come il cipresso comune e poi ci avevo messo leccio quercia avevo già provato con le latifoglie le piante foglie larga tutte sono andate male quelle che sono andate bene sono rimaste piccolissime e quando i cipressi hanno cominciato a ombreggiare e a creare un substrato adesso sono cominciate a crescere dopo dieci anni adesso sono passati vent'anni e ho dei cipressi di 7-8 metri con delle querce di 50-60 centimetri sotto diffuse dagli animali non ho dovuto fare più niente questa è la grande soddisfazione ho dato un input ho fatto una prova non ero né un esperto e né quant'altro ho fatto solo una prova perché avevo voglia di provare in qualche modo e mi è andata bene in quel caso con delle specie due su dieci e le altre otto sono seccate per la strada e quelle due solo specie hanno portato avanti il discorso adesso va avanti da solo non c'è bisogno più quasi di niente se non posso andare a sfoltire per farne dei pali o compost o altro posso già prendere del materiale dove non c'era nulla questo è importante non c'era nulla da un terreno vuoto non avrai mai niente avrai solo un valore degradato del terreno fino a se stesso a meno che non aspetti che qualche biego individuo ne faccia una lottizzazione e ti fanno fare palazzine allora poi li evito tutte le stelle ma a certi punti ancora le palazzine non le fanno fare quindi è meglio metterci degli alberi Francavilla anche Francavilla c'è una zona piena di calanchi con delle pareti anche di 70 metri quelle che sono intervenuto ti rispondo tra un attimo quelle che sono intervenuto io erano alte 25 metri le pareti però erano con un'inclinazione di 45 gradi non erano perpendicolari e io sono intervenuto nella fascia sommitale in modo che ho bloccato l'erosione a monte dove l'inclinazione era troppo perpendicolare non ci sono riuscito in questi anni sto pensando di andare a mettere là le palline di argillo le piantine di ginestra però è una situazione molto difficile perché la pendenza è elevata e quindi di lavamento è più feroce la tamerice è una pianta molto interessante ma ha bisogno di terreni un po' friabili se sono troppo compatti non riesce a infilarsi però è molto molto interessante perché è molto resistente all'aridità è possibile avvantaggiare quindi i semi di albero che si piantano in terra come dicevi tu adesso facendo una ratura o avvolgendo in uno strato di argilla sì senz'altro è importante ed è utile avvantaggiarli di questo anche perché una porzione di questi semi che vengono sparpagliati sono a rischio di disidratazione se non c'è substrato e sono a rischio di predazione degli uccelli e invece con l'argilla li nascondi è come se li avessi seminati ma non sotterrati e poi può essere molto simbatico come gioco da far fare ai bambini far avvolgere i semi nell'argilla intingerli bagnarli e poi buttarli i semi devono rimanere in superficie il terreno avevo detto di smuoverlo per dare un letto soffice perché su un terreno compatto con la pendenza i semi se non c'è neanche lo straterbaceo i semi possono essere tutti quanti dilavati giù dalla prima pioggia quindi dipende sempre dalla situazione quando è difficile ma questo sistema di lanciare i semi e di buttarli in giro vi assicuro che è qualcosa di meraviglioso io stesso mi ritrovo in sacco di semi in tasca e in ogni periodo dell'anno ho questi semi da tutte le parti che porto in giro e tra l'altro ultimamente ho cominciato con le ginestre a portarmi semi di ginestre quest'anno ho raccolto più di mezzo chilo di semi in poco tempo perché quando maturano fai subito e ho intenzione di andare ad agire in un altro terreno abbandonato questa volta vado a sabotare un terreno del comune che tiene abbandonato da 35 anni perché lo promettono a tutti e non lo danno a nessuno è un terreno pianeggiante di recupero quindi terreno riportato dietro gli argini del fiume per farne coltivazioni 35 anni non è stato mai utilizzato e adesso tanto lo dico pubblicamente perché fino a che se ne accorgono in Basilicata dormiranno ci andrò a seminare delle ginestre tutti intorno così almeno facciamo un po' di biomassa e facciamo un po' di piante e un po' di fotosintesi che ne abbiamo bisogno tra l'altro in questo momento dopo 35 anni in questo terreno di riporto è rimasto solo un prato arido cioè crescono le piante erbacee durante l'autunno e l'inverno in primavera poi fioriscono seccano ed estate tutto giallo e secco i cespugli non ci riescono ad arrivare perché tutti intorno non ci sono ancora abbastanza piante che possono autodisseminarsi bastano due o tre mangiate di semi di ginestra e vedremo se parte qualche cosa la librizia è una leguminosa e anche questa è azotofissatrice va bene per i terreni sabbiosi addirittura diventa un infestante in certi ambienti specialmente lungo le coste dell'arco ionico in Calabria però è comunque una pianta che con quelle radici svolge una funzione attiva perché permette l'areazione in terreni troppo compatti dove invece non sarebbe possibile continuiamo con le domande dopo la chiusura della diretta però fermarci un momento e quindi vi saluto perché ci vedremo domani mattina allo stesso appuntamento alla stessa ora grazie 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 grazie